indicabile ad un'atta di Bari laddove si erge il sacrallo militare dei caduti d'oltremare moltissimi dei quali furono alpini alpini come sono alpini quelli che sfilano davanti a noi alpini di Bari, Puglia e della Basilicata con le sue alte colline e montagne grazie ragazzi di Bari, delle Puglie, della Basilicata e ora Latina